Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Oggi vi porto l'aggiornamento settimanale che raga fa veramente pena, ve lo giuro è una cosa assurda Non so neanche perché ve lo sto portando, facevo prima a giocarmene a COD Comunque raga, una volta che siamo all'interno del casino vi faccio vedere che hanno messo questo veicolo che è uscito un po' di tempo fa raga Carino, veicolo da sabbia, veicolo da fare cross, veicolo da andare fuori strada E se volete vincerlo vi invito a usare il glitch della rota della fortuna, lo trovate nel canale ragazzi, è semplicissimo A questo punto passerei direttamente a LS Autoraduno raga Dove troviamo come veicolo del podio la Toros Come al solito per vincere lo dovete arrivare tra i primi tre nella categoria gare clandestine Invece ci ripropongono per l'ennesima volta ragazzi la Ignus armata esclusiva veicolo A questo punto ci fanno vedere la Euros nei veicoli del podio raga Ci hanno messo anche la Reaper e devo dire la verità era veramente tanto che non vedevo il kart da qualche parte Quindi a questo punto cambiamo e andiamo direttamente da Simeone Dove troviamo un po' di roba che raga devo essere sincero è un po' che non vedevo circolare Parliamo di questi veicoli diciamo armati, corazzati, armati no sinceramente solo il Night Shark è armato E raga era un po' che non li vedevo Approfittate se siete nuovi giocatori questi veicoli per fare le missioni sono veramente comodi Non parlo di Stacciofeca ma degli altri E raga devo dire anche che la Zulusso è veramente un bel mezzo per fare le gare stunt Quindi a questo punto usciamo di qua andiamo direttamente dagli showroom Dove non ci ripropongono niente di chissà cosa perché sono sempre le solite cose Guardate un po' ci propongono di nuovo ragazzi la Ocelot XA21 Penso che qua dentro l'avrò vista come minimo 4-5 volte Item compattata e colato nero raga che qua dentro ci sta facendo le cozze Quindi a questo punto parliamo degli sconti Abbiamo in sconto il bunker con le sue modifiche ragazzi E visto che siamo in tema vi spiego anche cosa fare con il bunker Se volete sbloccare qualcosa di nuovo Due cazzate ma sai com'è Rockstar ci dà veramente le caramelle per accontentarci Ma noi non ci perdiamo in chiacchiere e dal 10 al 16 agosto ragazzi Giocando a GTA dovremo sbloccare la maglietta da Baseball da Munation Completando una missione di vendita del bunker E la livrea Atomic Rally Spec per il mostro Il Mitsubishi diciamo raga al veicolo nuovo Completando una missione di fornimento del traffico d'armi E un contratto da Munation Allora ragazzi questa è la maglietta e questa è la livrea Se siete interessati fatelo Se non ve ne fotte niente andiamo avanti Questa è la posizione della gara RC Bandito per tutte le piattaforme Questa è la posizione per la gara della bici di tutte le piattaforme Dopodiché abbiamo la gara di Yao ragazzi Sono tutte abbastanza vicine quest'oggi E questa qua come ben sapete esclusiva next gen Dopodiché abbiamo quella per tutti raga La solita gara da 100.000 che si trova in quest'altra posizione E intanto raga scherzando e ridendo Facendo queste gare a tempo ci portiamo via 500.000 Facili e veloci diciamo A questo punto passiamo al nuovo elicottero Come lo stavo dimenticando raga Che costa 3.385.000 Porterò magari il video delle modifiche Adesso cosa vi devo dire raga Niente perché non c'è nient'altro da raccontarvi Spero che il video vi è piaciuto Lasciate un like, lasciate un commento Condividete e alla prossima Spada Bam Ciao Ciao